Amici e amiche di RBI, ritorniamo in diretta da Piazza San Donato per Artigianato Pinerolo 2023. Le città invisibili, in questo momento dalla regia do appunto il consiglio di inquadrare la piazza intorno a noi con i tanti stand e le persone, le persone che animano Artigianato Pinerolo. Tra poco avremo il piacere di scoprire coloro che rendono questo spazio molto creativo, vivo, assolutamente pulsante, tante idee che si ritrovano tra le strade del centro storico di Pinerolo per questa bellissima edizione, coloratissima edizione 2023 di Artigianato Pinerolo. Il primo progetto che vi presentiamo in questa diretta di RBI si collega direttamente con il libro che ho qui con me, Le città invisibili. Le città invisibili è il tema, è il tema dell'edizione 2023 di Artigianato Pinerolo. Perché questo libro di Italo Calvino? Perché in quest'anno, nel 2023, si festeggia il centenario della nascita di questo indimenticabile scrittore e l'organizzazione di Artigianato Pinerolo si è ispirata a questo scrittore e ai temi raccontati dalle città invisibili. I vari capitoli di questo libro meraviglioso citano tanti aspetti, la città e la memoria, la città e il desideio, i sogni. Noi inizieremo con un capitolo che vorremmo aggiungere al libro di Italo Calvino, lo chiamiamo, lo intitoliamo Le città e l'arte urbana. Abbiamo il piacere di presentare questo progetto con i tre amici che abbiamo qui con noi mentre diciamo salute al primo degli ospiti, Fiodor Benzo. Ciao, buonasera a tutti. È il bello della diretta, Fiodor. Abbiamo con noi Roberto Costantino. Ciao Roberto, ben arrivato. Ciao a tutti. Fabio Petani da Pinerolo in tutto il mondo con i suoi murales. Ciao Fabio. Ciao, ciao a tutti. Ben arrivati, ben arrivati su RBN alla nostra postazione per raccontare questo progetto della street art, Roberto, con Artigianato Pinerolo. Come è nata questa idea, Roberto? L'idea è partita, mi trovo a Milano, ho visto un murales, ho chiamato uno degli organizzatori dell'artigianato e gli ho proposto questa idea. Andrea Costantino che salutiamo. Sì, sì, ciao Andrea. E lui come l'ha presa questa cosa? Come è una sfida? Direi benissimo e anche la sua socia Manu ha approvato. Salutiamo. E il passaggio dopo è stato ti do un numero di telefono di un artista in gamba, diciamo il numero uno. E mi ha dato un numero di telefono. E Fabio Petani. Sei tu Fabio, stiamo parlando di te. E quindi è nata questa idea. In che modo si unisce Artigianato Pinerolo, le città invisibili e la street art qui a Pinerolo? Ma era proprio per questo discorso che facevi prima, no? Di muovere la parte artigianato, cioè con l'evento legata all'evento, ecco diciamo. Gli street artist di questa sera, quelli che vi presenteremo questa sera qui su RBN, hanno degli spazi, Roberto. Quindi nelle vie del centro storico, nelle piazze, proprio nella piazza qui vicino a noi, ci sono degli spazi privilegiati, delle vere e proprie tele per i nostri amici di street art. Li abbiamo chiamati Totem, ci sono tre artisti per ogni Totem, uno in piazza Facta, uno qui al Duomo, nella piazza del Duomo e l'altro sulla strada Principi d'Acaia. Benissimo, quindi potremmo ammirare queste opere che saranno terminate, immagino domani. Domani, domani per l'ultima giornata di artigianato Pinerolo. Fabio, quindi è nata questa collaborazione, tu stai realizzando diversi lavori, ti seguiamo sui social, sul tuo sito fabiopetani.com, insomma, stai girando il mondo con la tua idea di fare arte, di fare arte urbana. Da Pinerolo, poi insomma c'è stata anche la mostra personale alla Galleria Rosano, le parleremo anche dopo. Insomma, è una forma di espressione, è una forma di artigianato, è una forma di arte? Forse si abbattono un po' i muri e le definizioni. Allora, intanto io parto al contrario, nel senso dall'entusiasmo di Roberto, che è stata un po' la scintilla che mi ha fatto accettare questo incarico, quindi di aiutarlo ad organizzare, a chiamare altri artisti internazionali dal Piemonte. Da questo siamo partiti per un primo passo, quindi l'idea è quella di dare un segnale anche a Pinerolo, quindi dare un via a qualcosa che può nascere e può crescere insieme. Chiaramente c'è bisogno anche della città, nel senso da soli noi possiamo colorare, in questo caso dei pannelli, poi magari dei muri, però poi è un primo passo, non è una fine. Quindi il nostro è solo un inizio, un segnale. Un inizio direi una tappa, perché un inizio, ricordiamolo, c'è stato, perché Pinerolo non è nuova, la street art, ricordiamo ad esempio il progetto Street Alps, il tour che viene organizzato con gli amici del Cerchio Le Gocce, di cui tu fai parte come collettivo. Quindi è una terra questa in cui la street art è assolutamente ben accolta, ci sono tanti esempi nella nostra Pinerolo, Torre Pellice per esempio. Quindi è un'arte urbana che ha accolto subito il segno ed è bello che sia qui Roberto, che ci sia stato questo spazio privilegiato. Hai parlato di Milano all'inizio, hai parlato di Milano, mi viene in mente un discorso culturale e di accettazione e di sguardo anche da parte di coloro che vivono la città. Anche questa penso che sia una grande sfida. Una città d'esempio, sì, assolutamente. E lì mi si è... Si può fare a Milano o si può fare anche a Pinerolo evidentemente? Noi è quello che vogliamo, no? Ok, quindi continuare così. Potrebbe essere un inizio questo Roberto? Assolutamente, è l'inizio. Non è una cosa così fino a se stessa? No, no, no. Dai vedremo, quindi chi lo sa, vedremo in futuro che cosa sarà. Noi seguiremo ovviamente tutti i social di To Make Events che organizza Artigianato Pinerolo, la parte social della città di Pinerolo. E tra poco andremo a scoprire non solo il lavoro dietro le quinte del laboratorio, dell'idea, della creatività di Fiodor Benzo, di Fabio Petani, ma anche degli altri artisti che tra poco chiameremo qui in postazione. Ringraziamo Roberto Costantino per essere stato con noi, per averci introdotto a questo bellissimo progetto. Grazie a te, grazie a tutti. Musica! Che idea, ma quale idea? Lui era Pino D'Angio in diretta su RBR Radio TV dall'artigianato Pinerolo 2023, 47esima edizione di questa rassegna che porta il saper fare artigiano. La creatività, la fantasia, la voglia di stare insieme, insomma, tutto in un unico appuntamento dall'8 al 10 di settembre del Centro Storico nel Salotto di Pinerolo. Tanti progetti che vi racconteremo in questa diretta di oggi fino alle 22, circa, 22 e 30 su RBR Radio, RBR TV, RBR TV, canale 87 del Digitale Terrestre. Potete guardare e ascoltare le nostre trasmissioni. Domani, ricordo la diretta conclusiva, ve lo dico già adesso, ve lo anticipo, magari passate a trovarci qui a Pinerolo, ci troverete con il nostro studio mobile dalle 15 alle 17.30 in diretta su RBR. Torniamo all'attualità, torniamo al qui ora, abbiamo con noi due dei componenti del collettivo Il Cerchio delle Gocce, la street art che incontra l'artigianato Pinerolo e viceversa, l'incontro tra questi due mondi che vi presentiamo con Fabio Petani. Ti saluto ancora, ciao Fabio, salutiamo il primo degli artisti qua con noi, poi Fiodor Benzo. Ciao Fiodor. Ciao a tutti. Prima abbiamo parlato anche con Roberto Costantino di questo progetto di portare l'artigianato qui a Pinerolo. Fabio, abbiamo anche introdotto il vostro lavoro qui, io adesso vorrei andare in qualche modo nel dietro le quinte del vostro lavoro. Com'è nata questa passione? Quando hai capito che questa potrebbe essere la tua strada Fabio? Allora, tutto è nato quando ho conosciuto i ragazzi appunto del Cerchio delle Gocce, quindi prima di entrarci, perché Fiodor che è qui con noi è il vicepresidente, è finita l'università, io ho iniziato a seguire questi tour di street art, quindi da spettatore, da appassionato. Da lì è nato il mio entusiasmo, i ragazzi hanno visto il mio entusiasmo, è iniziata una sorta di collaborazione, sono iniziati i primi lavori insieme e da lì anche il mio entusiasmo, la mia consapevolezza è cresciuta sempre di più finché non ho preso il volo da solo, nel senso continuiamo a rimanere insieme, però poi ognuno ha la propria attività individuale, quindi è nato tutto un po' per tenacia, un po' per passione, un po' per una continua ricerca di stimoli, quindi questa è anche la classica scintilla che consiglio a tutti i giovani di ricercare nella passione. La passione, la passione è alla base, la creatività, quella lampadina che si accende e quello stile da ricercare. Il tuo inizio, tu sei partito immagino dalla carta, io ho presente i fogli A4, quelli della Fabriano, non so, quel tipo di carta lì a scuola, quindi poi l'università eccetera, perché lasciare la carta, diciamo le tavole da disegno sul tavolo da lavoro, nello studio, perché utilizzare la città, i suoi muri, come forma di creatività? Sicuramente le pareti, i muri che dipingiamo sono dei grandi fogli di carta, con la differenza che sono visibili a un sacco di persone in più, che da un lato è un privilegio, quindi la possibilità di poter far vedere il proprio lavoro a tante persone, dall'altro è anche un dovere, diciamo, quindi di rispettare la sensibilità del pubblico e quindi di cercare di fare qualcosa che funzioni per la sensibilità della gente, quindi è da un lato un onore e dall'altro un onore poter fare questi tipi di interventi. Fiodor, una curiosità, un concetto che a me ha sempre curiosito della street art, è il fatto che fondamentalmente è effimera, un dipinto su un muro, un murale ha comunque una vita limitata dalle condizioni atmosferiche, limitata dal fatto che viene realizzato appunto in esterno sui muri delle nostre città, spesso e volentieri si è parlato di come conservare questi muri, ci sono degli esempi a Berlino, per esempio c'è un museo dedicato alla street art, come coniugare questo aspetto? È un qualcosa che come artisti, parlo a te ma anche a Fabio e anche agli altri ragazzi del cerchio delle gocce, ma in generale un po' a tutti voi street artist, l'idea è che sia comunque effimero tutto questo, che abbia comunque, che sia sottoposto all'intemperia, al passaggio magari di altri street artist o comunque altre persone che vanno a scrivere il loro tag, come vi comportate? Beh, innanzitutto, cioè nell'idea proprio di fare arte pubblica, quindi tutto quello che è pubblico è in balia anche della gente, sia a livello di giudizio, quindi sei molto più, sei sotto le critiche di tutti, ma nello stesso tempo l'opera può essere modificata da un passante, che può essere anche molto intelligente, quindi migliorarla, come può essere stupido e peggiorarla, oppure non saperla cogliere, però è anche interessante pensare che un'opera è come se avesse una data di scadenza, quindi andrà a rappresentare anche a livello estetico un dato periodo, no? E il tempo vorrà che magari tra dieci anni, vent'anni, trent'anni, magari i miei murales verranno cancellati da un'artista più giovane, che magari lo rinterpreterà il mio lavoro o ne farà uno totalmente diverso. A me piace questa roba qua, di lasciare un segno per il prossimo, per il futuro, per i posteri, ma anche che i posteri possano interagire con quello che un artista ha creato, cioè alla fine nessuno è indispensabile, siamo tutti necessari, ma nessuno è indispensabile. Sai perché te lo chiedo? Perché quando si realizza un'opera è un'espressione che abbiamo, insomma, un desiderio, un'urgenza che l'essere umano ha, quello di esprimersi, insomma abbiamo esempio anche intorno a noi con le grotte, i primi graffiti, per dire, insomma, banalizzando, però è qualcosa che vuole dare un segno del proprio passaggio. Tutto questo, quello che mi stai dicendo, è un po' differente come punto di vista, però anche quando parliamo appunto dei graffiti ruprestri non abbiamo neanche il nome di una persona, abbiamo solo le immagini, e quindi probabilmente le immagini sono più forti di quello che è il nome stesso di chi le ha realizzate, perché alla fine è quella roba lì. Non abbiamo il nome di chi le ha realizzate, però Fabio, parlando di opere non firmate, c'è una firma che secondo me deve emergere, o può emergere, questo sarai tu a dirmelo, deve essere riconoscibile, la riconoscibilità dell'artista e del murale. Immagino che sia l'apice, comunque una tappa di un lavoro molto lungo, perché ogni street artist, me lo confermerà anche Fiodoro, poi lo chiederò anche a te, deve essere riconoscibile. Sì, senz'altro io personalmente i miei lavori non li firmo quasi mai, perché avendo diciamo fatto scuola, quindi imparato da dei colleghi writer, quindi ragazzi che hanno fatto graffiti, ho iniziato a usare il mio stile, quindi a costruire uno stile sempre più riconoscibile, che è diventato un po' la mia tag, la mia firma, quindi ho preferito rafforzare questo passaggio per poi arrivare ad un punto dove la gente vede, non so, il cerchio, la linea rossa, elementi caratteristici miei e riconosce che quell'opera è mia. È stato un passaggio diciamo faticoso all'inizio, perché chiaramente da zero nessuno può riconoscere, però dopo tante opere la gente iniziava a unire i punti, quindi dopo uno o due murale svisti veniva collegato che quell'opera era mia, quindi la volontà anche di mettere in primo piano l'opera e non l'autore, perché in realtà l'autore poi è quello che sta dietro le quinte, l'opera è quella che rimane, che la gente vede, quindi per quello che riguarda me, credo anche molti colleghi, è importante che sia l'opera a parlare, non l'artista magari vestito eccentrico perché deve fare l'artista o cose simili, l'opera è quella che rimane, non l'artista. L'opera che si evolve, perché i tuoi primi murale sono sicuramente diversi da quello che possiamo connotare nelle tue ultime opere, nei tuoi ultimi lavori. Fiodoro, tuo punto di vista sotto questo aspetto, io ho avuto modo di incrociare il tuo lavoro in diversi luoghi, a Imperia, a Superga, a Sanremo, a Rivoli, a Cascinevica, insomma, e ho riconosciuto il tuo stile. Quanto è importante avere un proprio stile? Qual è il lavoro per arrivare a questo stile riconoscibile, come diceva Fabio, senza avere la necessità di firmarlo? Ma vabbè, innanzitutto i miei lavori sono riconoscibili anche quando sono illegali e quindi non li firmo apposta anche per quello. Però il fatto è un po' riuscire a creare la propria personalità, farla uscire nei propri gesti, nel proprio disegno, nel proprio tratto, nelle proprie tematiche o anche colori. Per esempio io uso poco il viola, che in realtà ho usato, non perché lo odi, ma perché preferisco altri colori, quindi tendenzialmente se uno vede dei petroli, dei giallini, dei bordeaux, o del nero, sa che probabilmente dietro c'è un mio lavoro. Il tratto sporco, io per esempio quando ero più giovane usavo i tratti molto puliti e poi mi sono reso conto, ma io sono disordinato, sporco, imbranato, improvviso, poi cancello, faccio, sbrigo, l'errore fa parte proprio della mia cifra stilistica e quella l'ho cercata di trasformare in immagini. Però è un percorso personale, quindi ognuno trova la villa, la famiglia. Certo, il suo modo di esprimersi. Poi tu hai parlato di errore, come fai? Quando sbagli un casino, poi si può cancellare sul muro, ci passi sopra. A me piace anche che si veda l'errore. Anche lasciare il design, ok. Cioè è un po' come quando fai una cazzata con un amico. E rimane lì, ok. E rimane lì, gli chiedi scusa, ma tanto la cazzata l'hai sempre fatta. Una domanda riguarda un episodio, insomma, che abbiamo avuto modo di leggere e di ritrovare recentemente, cioè mi riferisco al portare la street art nei musei. Abbiamo appena accennato poco fa con Fiodor il museo della street art, quello che c'è a Berlino, però c'è stato un caso recentemente a Bologna, se ricordo bene, con uno street artist, se non sbaglio era blu, era stato proposto a questo artista di praticamente staccare, comunque portare una sua opera in un museo, lui si rifiutò totalmente. Fabio, tu hai avuto modo di esporre proprio qui a Pinerolo, tra l'altro, ricordiamo una delle tue esposizioni qui alla Galleria Lozano, in cui hai esposto le tue opere. Come ti poni? Ovviamente penso che siano due parti diverse del tuo lavoro, però vorrei sapere il tuo pensiero. Sì, allora intanto stiamo parlando della vicenda, come dicevi te, di Blu, dove in realtà lui è stato contattato per avere l'autorizzazione di strappare come affreschi alcuni lavori e portarli in Galleria. Lui non è che ha rifiutato, lui non ha proprio mai risposto, dando per scontato che era una roba che non aveva senso. Quindi poi come forma di protesta ha deciso di coprire tutti gli altri interventi che aveva realizzato in Bologna, proprio per evitare che le sue opere venissero marcificate. Stiamo parlando di un caso unico, nel senso che Blu, per quello che è il mio pensiero, è l'unico artista che può essere definito street artist, nell'essenza del termine, perché tutti noi che facciamo comunque arte su strada, io la definisco magari arte urbana o muralismo urbano, abbiamo anche una seconda parte del lavoro, che è quella di realizzare lavori su tela, su vari supporti che poi vengono esposti in Galleria, perché è una parte necessaria per la sostenibilità della nostra professione e per il guadagno, quindi chi ha deciso di farlo come lavoro ci deve guadagnare. Blu l'ha fatto come stile di vita, come voglia di esprimere dei pensieri, come orientamento sociale ed è un caso diverso rispetto al mio, rispetto a quello di altri artisti. Posso dire, secondo me, la sua arte è proprio un gesto politico, è un gesto politico anche il suo non appartenere a determinati meccanismi e il scegliere di non vendere le sue opere, è un gesto politico molto forte che è anche in linea con quello che è la sua narrativa, il suo stile, i messaggi sociali che manda e quello è un'altra cosa. Non è stanturarsi quindi, non è stanturare il proprio sogno, il proprio pensiero, anzi è un arricchimento culturale intendo. Allora, lui sicuramente è un artista che più di chiunque altro al mondo, neanche a livello italiano, a livello mondiale riesce a porre dei quesiti etici, morali, economici che la maggior parte degli artisti, ma il 99,99% non riesce a fare. Ed è anche una scelta, mantenere quella coerenza non è semplice, probabilmente non è stato coerente tutta la sua vita, come non lo è nessuno, però fa riflettere più di chiunque altro. Ultima domanda, Fabio, mi rivolgo prima a te, riguarda il futuro della street art, un futuro in cui, adesso non so come siano i numeri, com'è la tendenza, tu magari puoi raccontarci qualcosa di più Fabio, soprattutto per capire dove sta andando la street art, se possiamo indicare una possibile strada. Stiamo parlando di città invisibili, che sono rese in qualche modo visibili attraverso queste opere, che spesso e volentieri sono delle domande che vengono poste al cittadino e alla cittadina, insomma, quale può essere il futuro, una riflessione sulla possibile nuova via della street art? Allora, intanto tutti gli artisti che sono attivi al momento e che stanno crescendo in questi anni hanno alzato decisamente il livello di quella che è l'arte urbana, quindi si è passato da opere un po' più raffazzonate, passami il termine, a opere sempre più strutturate, con committenze strutturate, eccetera. Dall'altra ovviamente sono aumentate anche le committenze, quindi il numero di murales in giro e purtroppo i tempi che corrono la gente si annoia per nulla, quindi è un peccato dover, come dire, sacrificare un'occasione perché la gente è talmente satura di queste vedute che non si ferma, vi faccio un esempio banale, qua all'artigianato ci potrebbero essere molte più richieste, come mai fate quello, come dipingete, che colori usate, sicuramente ci sono delle richieste a livello anche proprio di curiosità, quindi di dire ma che bravi, perché lo fate, come mai, eccetera, o anche non che bravi ma comunque un confronto, mentre in realtà la cosa che a me dispiace di più è l'indifferenza che spesso c'è perché comunque nel bene o nel male sono delle cose che stimolano la vista, quindi puoi dire brutto, puoi dire bello, ma è più preoccupante il fatto che la gente passi a fianco e non ci faccia caso, secondo me. Quindi un possibile futuro può essere innanzitutto nella coscienza o comunque educare anche la cittadinanza alla street art, secondo te? Allora, io penso che i semi che l'arte urbana sta seminando li vedremo tra 10-20 anni, ovvero quando i bambini, la differenza tra i bambini che sono cresciuti guardando determinati murali, vedendo determinate immagini, come cresceranno loro? Cioè i disegni che faccio oggi spero che quando avrò 60 anni verrà qualche ragazzo giovane che mi dirà, oh, ho fatto questa scelta nella vita e mi ha influenzato quella roba lì. Io sono cresciuto ad Imperia e da bambino abitavo vicino a una villa di un clown che si chiama Villa Grock, se qualcuno è mai stato a Imperia. Io faccio l'artista uno dei motivi perché da bambino tutti i giorni vedevo quella villa del clown, perché era un posto magico che ha stimolato la mia fantasia, molto di più di tante altre cose. Parliamo anche di formazione qui a Tiggianato Pinevolo, ma adesso veramente l'ultima domanda riguarda la formazione, c'è una scuola di street art, comunque la scuola migliore è la strada, come la pensi Fabio? Allora, per quella che è la mia esperienza sicuramente è tanto costruire su se stessi, investire energie, lanciarsi nelle attività, quindi come dicevo prima, se a me piace dipingere, vedo uno dipingere, vado e gli chiedo cosa sta facendo, come lo fai, perché se a uno gli piace cantare, ti fermi, gli chiedi come fa a fare quello e quell'altro, quindi proprio il lanciarsi e continuare a crederci, anche perché probabilmente magari tra 20-30 anni, come diceva Fiodo, la gente leggerà i nomi degli artisti che ci sono sull'artigianato, dirà, cavolo se mi fermavo a parlarli, questo è uno degli artisti più famosi che c'è al mondo, perdi l'occasione adesso e poi magari tra 30 anni te ne penti. L'arte urbana incontra l'artigianato Pinerolo, abbiamo avuto il piacere di poter affrontare questa discussione, questo talk con Fabio Petani che ringrazia ancora, ti auguro in bocca al lupo, viva il lupo per il tuo lavoro, caro Fabio. Grazie. E ringraziamo anche Fiodor Benzo, grazie Fiodor, salutami Impedia quando la vedi. Grazie. Buon lavoro anche a te, un saluto anche agli altri ragazzi del Cerchio e le Gocce, buon lavoro. Allora domani potremo vedere i vostri murales finiti qui all'artigianato Pinerolo, vi auguro davvero tanta voglia di continuare a regalare c'è tanto colore e tante belle opere, i muri possono essere una tela evidentemente, vero? Buona serata a tutti, grazie Fiodor. Grazie Fiodor, ciao. Musica!